I finanzieri del nucleo di polizia tributaria dell'Aquila hanno deferito all'autorità giudiziaria il rappresentante legale di una società affidataria di lavori di ricostruzione di un condominio gravemente danneggiato dal sisma del 2009 che attraverso due false autocertificazioni attestanti l'avvenuto pagamento di un subappaltatore aveva ottenuto indebitamente il pagamento di due stati di avanzamento lavori per un importo di oltre 350 mila euro l'imprenditore è stato denunciato per indebita percezioni e di erogazioni a danno dello stato e nei suoi confronti è stato disposto il sequestro di 14 mila euro somma corrispondente all'importo della fattura non pagata all'impresa subappaltatrice pur avendo quest'ultima regolarmente svolto e concluso i lavori affidati l'attività portata a termine nelle ultime ore si inquadra in un più ampio contesto investigativo che vede le fiamme gialle impegnate già da tempo in mirati accertamenti volti alla verifica dell'autenticità delle autocertificazioni prodotte dagli affidatari dei lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma in relazione all'avvenuto pagamento dei subappaltatori o dei fornitori infatti gli affidatari dei lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma che omettono il pagamento dei propri fornitori non assumono alcun rischio di impresa e trattenendo tutti gli utili privano di preziose risorse finanziarie le imprese più piccole determinandone spesso se non il fallimento quantomeno una sofferenza finanziaria